Ciao da Kei Manzarine, in questo nuovo video vi parlerò del nostro servizio di lavaggio tappeti zero sforzi perché rimanendo comodamente a casa vostra i nostri incaricati altamente qualificati si occuperanno di esaminare e prelevare il vostro tappeto rilasciando una ricevuta con la descrizione accurata dei lavori svolti e il costo del servizio. Non ti preoccupare se ci sono mobili pesanti da spostare, i nostri ragazzi si occuperanno anche di questo. Dopo 7 e massimo 10 giorni avviene la riconsegna del vostro tappeto sigillato in celofan microforato che ne permette la traspirazione. Ah e ricordatevi che ritiriamo con corriere assicurato in tutta Italia quindi chiamateci sul nostro numero qui in sovraimpressione o compilate il form sul nostro sito. Grazie e al prossimo video. Grazie a tutti.